Nella meravigliosa avventura di Matteo Ricci c'è stato un momento particolare quando con la nave, una volta c'erano le barche a vela, i vascelli, improvvisamente si sono trovati nell'oceano indiano senza un filo di vento, assolutamente nessun filo di vento. E quella sensazione terribile di immobilità nell'oceano l'abbiamo rappresentata con questo brano dal titolo appunto Vele senza velo. Grazie. 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 Grazie mille.